Giovanni Torre è uno che l'ambiente di Ponte Romano lo conosce bene. L'anno passato è arrivata una salvezza sul finire, ma meritata. Quest'anno si è cambiato corso, nuovo allenatore, tanti diversi giocatori nuovi. L'anno scorso, come eravamo partiti, è malissimo. Ci siamo ripresi discretamente bene. Con il Covid si è fermato tutto. Abbiamo fatto una bella rincorsa, eravamo quinto ultimi nei play-out. Ci saremo salvati. Per come è andata a finire tutta la situazione ci siamo salvati. Abbiamo fatto del nostro meglio. Attualmente per quest'anno sono cambiate un po' di cose, sia dei giocatori, staff tecnico, allenatore. Devo dire la verità che mi sento abbastanza fiducioso per quello che è attualmente la squadra e come stiamo lavorando. Il campo dirà ovviamente la sua. C'è grande voglia di tornare in campo dopo tanti mesi di assenso? Quello sicuramente. Negli ultimi 26 anni che gioco non mi è mai capitato di rimanere così tanto tempo fermo. C'è molta voglia di ricominciare a correre, di ricominciare a toccare la palla. C'è molta voglia di fare bene e di riconfermare. Almeno personalmente, ma penso per tutta la società, quello che abbiamo fatto già l'anno scorso, se riusciamo a riconfermarlo, penso che già siamo a buon punto. Il campionato di eccellenza sarà uno dei primi a ripartire anche in ambito nazionale, ma si prospetta un campionato estremamente difficile, anche bello da giocare, visto che sono tutte queste formazioni forti. E soprattutto tanti turni infrasettimanali. Diciamo che personalmente, forse per i turni infrasettimanali preferisco così ci si faranno più partite e meno allenamenti. Però lasciando stare questa cosa qui, penso che attualmente è un campionato molto equilibrato togliendo quelle due o tre corazzate che punteranno, come già si vede attualmente dal mercato e le cose, che punteranno sicuramente a distruggere il campionato. Però bene o male comunque penso che sia un campionato abbastanza equo, tolte quelle due o tre squadre, ripeto con il discorso del Covid-19, quindi bene o male adesso attualmente le squadre sono tutte sul chi va là e attendono ancora un po' di ripartire ancora, chi sta ancora mettendo a punto la squadra. Però bene o male penso che sia un campionato bello quest'anno, perché come dicevi anche tu c'è Avezzano, Chieti, L'Aquila, ci sono diverse realtà grandi, però secondo me ci divertiremo, sarà un bel campionato.